Salve, salve da Marco Calabro, ci troviamo oggi da Camomilla e siamo ad Alcamo in provincia di Trapari per l'estra terza in corso dei mille numero 39. Siamo qua per vedere oggi, per conto di Alleanza Mobiliari, un materasso che ha all'interno, fra i tre strati, c'è anche quello di un memory a resilienza supportata. Il memory a resilienza supportata è un memory che ha una massa di spinta rispetto ai memory normali, dal basso verso l'alto, maggiore rispetto ai memory tradizionali. Quindi diciamo che supporta meglio il peso della persona che sta utilizzando il materasso. In questo caso chiaramente ci sta sotto sempre una schiuma evoluta di sostegno, di supporto. Poi ci stanno sette centimetri, queste misure difficilmente si raggiungono con i memory normali, sette centimetri di memory a resilienza supportata e successivamente, per rendere il prodotto più gradevole, più soffice, sono stati inseriti tre centimetri di memory gel. Quindi un pane complessivamente che ha tre differenti strati. Lo strato di schiuma evoluta, poi sette centimetri di memory a resilienza supportata, lo ripeto perché questa è una cosa abbastanza rara, e poi sopra, questo è più comune, uno strato di tre centimetri di memory gel. Nel complesso questo prodotto, insomma, sicuramente è un prodotto gradevole, senza ombra di dubbio perché si adegua fortemente alla struttura del corpo. Per chi gli apparisse troppo, perché la sofficità viene data chiaramente nei fatti dai tre centimetri di memory gel, e eventualmente ci sta anche una versione senza il memory gel, con solamente il memory a resilienza supportata. Grazie, grazie sempre. Vi ricordo che ci trovavamo da Camomilla ad Alcamo, in provincia di Trapani, in corso dei mille al numero 39. Grazie per conto di Alleanza Mobilieri e arrivederci al prossimo video.